Salve amici del Centro Medio Italiano, rimonta dell'alta pressione confermata dai principali modelli a partire dal weekend. Vediamo allora gli ultimi aggiornamenti sulle tendenze fino a Natale. Situazione sinottica che tra venerdì e sabato vedrà ancora il Mediterraneo in balia di correnti umide ma anche miti con possibilità di piogge sparse sull'Italia. All'inizio della settimana è con promontorio anticiclonico di matrice subtropicale estendersi tra Mediterraneo ed Europa orientale. Tempo decisamente più stabile in Italia con temperature di qualche grado sopra le medie e soprattutto in quota. Tornano nebbie e nubi basse invece su valli e pianure. Nella seconda parte della settimana sia il modello GFS che l'europeo mostrano un cedimento con il transito di un blando passaggio instabile. Flusso ondulato anche in vista del weekend di Natale con possibilità dunque di tempo dinamico ma qui con la distanza temporale è veramente troppo elevata. Quindi allora seguite tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.